ciao a tutti pipistrelle e pipistrelle bentornate sul mio canale benvenuti se siete nuovi questa la mia stanza io sono la nera luna oggi decoriamo un paio di scarpe che come vedete ho pagato pochissimo l'ho prese da daichman sono queste scarpe molto carine perfette per la primavera avremo bisogno di una catenella in metallo di quelle apposite per fare i gioielli di dei charms della forma che preferite io ho scelto queste crocette di una pinza e di un pennarello bianco con il laccio chiuso al buco giusto segno i punti con cui attaccherò la catenella uno dei quali sarà in questo caso il terzo foro della chiusura che è già esistente sulla scarpa cerco di fare i segni con il pennarello bianco equidistanti dal retro della scarpa inserisco gli anellini nei buchi uno dei quali realizzerò con un ago grande da cuscito e poi cerco di fare i segni con un bel giovane Indossando la scarpa scelgo la misura della catenina e la taglio. Mi conviene tagliare entrambe le catenine per entrambe le scarpe insieme e scelgo il numero di charms da inserire, la distanza a cui li voglio inserire e li inserirò tramite gli anellini in metallo. Attacco la catenina agli anellini che ho già messo sulla scarpa ed il gioco è fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un like qui sotto, iscrivetevi al canale e spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao! 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 Ciao!